In compagnia di Paolo Mieli, presidente di RCS Media Group, oggi abbiamo dedicato un titolo piuttosto funesto a questo panel, Mala Tempora Current, eppure pare che la situazione sia abbastanza critica, perché qualcuno la descrive come un attacco speculativo all'Europa, all'Euro. La sua analisi qual è? Che è peggio purtroppo, perché fosse un attacco speculativo all'Europa e all'Euro, pur gravissimo, sarebbe qualcosa di rimediabile, ma la crisi che ha investito gli Stati Uniti d'America, dove per la prima volta della storia sono stati costretti a subire un downgrading, dimostra che è una crisi economica mondiale, è un crack come quello dell'autunno 2008 e forse un seguito di quello dell'autunno 2008. Per quanto riguarda l'Italia, noi dobbiamo pensarlo dentro una crisi mondiale, dobbiamo pensare a soluzioni che siano soluzioni nostre, proposte di soluzioni per noi, ma coerenti con una soluzione che riguardi l'intero occidente. Gli analisti sostengono inoltre che quando la moneta scricchia e quando l'economia è in crisi, la responsabilità spesso è della politica che appare troppo poco credibile, è così? Beh sì, la politica appare poco credibile ed è una specificità italiana, nel senso che il governo, che pure la maggioranza, almeno in Parlamento, è un governo chiaramente affaticato, minato da contraddizioni, con ministri che hanno grani giudiziari, insomma non è un governo di quelli esultanti ad inizio legislatura e nel complesso la politica non ha proposte forti, non ha per di più un grado di coesione tale da poter affrontare una situazione, agevolmente una situazione come questa, e quindi la debolezza della politica in Italia è uno dei talloni da chili specifici del nostro paese. Il 2013 è vicino e al tempo stesso piuttosto lontano, vicino perché, come abbiamo detto, le istituzioni scricchiolano. Una sua analisi, quali sono i partiti che se la giocano, che si contenderanno poi le istituzioni italiane e ancora chi sono i personaggi che ritiene più sulla crescita dell'onda oggi e che quindi poi incasseranno il sostegno dell'elettorato italiano? Io lo vedo più vicino che lontano al 2013, nel senso che due anni passano in fretta, le grandi manovre per le elezioni del Presidente della Repubblica che saranno a ridosso delle elezioni, se si svolgeranno normalmente le elezioni, sono dietro l'angolo, le grandi manovre sono iniziate, quindi è una illusione ottica che manchino due anni, in realtà ci siamo. I partiti che oggi si vedono in asti di partenza sono sostanzialmente due. Il più forte partito del centro-destra è il Popolo della Libertà, probabilmente non più guidato da Silvio Berlusconi, è stato indicato Alfano, Alfano a me sembra un leader che potrebbe guidare il Popolo della Libertà, e poi il Partito Democratico che è un segretario forte, in ripresa, e quindi oggi nei sondaggi è dato come un partito di maggioranza relativa. Però c'è un però, come in tutte le cose della politica italiana. Alfano è un segretario che deve dimostrare la sua autonomia, cioè come sempre nelle associazioni ci sarà una volta, scelga lui, in cui deve dimostrare che pensando lui una cosa, Berlusconi un'altra, lui è in grado di imporre, alla forza di imporre quello che lui pensa, se no, se di qui a due anni si limiterà a delle cose declamatorie, sarà meno forte, diciamo così. E Bersani ha contro di sé delle inchieste che lambiscono la sua segreteria e la sua leadership, nel senso che è chiaro che l'inchiesta Penati è un'inchiesta che lo coinvolge, cioè non è una cosa che riguarda un caso isolato, e non solo perché Penati era il capo della sua segretaria, ma anche perché in molti passaggi che hanno riguardato questa indagina giudiziaria c'è la presenza di Bersani. Per cui, diciamo, se le elezioni si svolgessero oggi al Fanno, gli rivolgerebbe continuamente il rimprovero di essere una marionetta nelle mani di Berlusconi. E per quello che riguarda Bersani potrebbe ritrovarsi a finire sulle prime pagine dei giornali, non già come candidato leader del centrosinista, ma come persona, perlomeno a conoscenza di fatti che vengono fatti risalire al suo partito. Mancano forse, per concludere le proposte in questo Paese, abbiamo assistito, o qualcuno lo ripete, come un facile ritornello alla fine della Seconda Repubblica, forse se ne inaugura una nuova, tuttavia mancano davvero le riforme strutturali. Quali crede che siano i piani da inserire nella nuova agenda? Mi ricollego alla sua prima domanda. La prima riforma strutturale è quella dell'abbattimento del debito pubblico, ma non il fronteggiamento del debito pubblico come è in questi giorni, ma proprio il vero e proprio abbattimento. Una cosa che fu promessa vent'anni fa e mai mantenuta. Il resto, quando sentiamo chiacchierare di riforme elettorali, di aggiustamenti della Costituzione, non dico che siano cose poco importanti, ma vengono dopo. un primo luogo, cioè di affrontare questa situazione di crisi in modo da non ritrovarci mai più per una generazione di fronte a una situazione come quella di oggi, perché lei può fare la migliore delle leggi elettorali, ma se poi si trova a dover pagare delle una tantum, avere nuove tasse e pagare un prezzo salato sul proprio bilancio, le leggi elettorali vengono dopo. Un'ultima battuta in conclusione. Cortina Incontra compie dieci anni quest'anno. Lei è spesso ospite del palco autorevole della nostra Kermess. Se la sente di fare un augurio o di commentare questa importante occasione dell'estate italiana? Certo, io vengo da tantissimi anni in vacanza a Cortina, ho casa qui e quindi adoro Cortina, voglio molto bene a questa città e Cortina Incontra ne ha così arricchito il panorama culturale, politico, culturale, i dibattiti, insomma ha reso vivace l'estate e l'inverno cortinese. Quindi faccio un augurio a Cortina Incontra non solo perché è un'organizzazione che spesso mi ha ospitato, ha ospitato i miei interventi, ma anche perché fa bene a Cortina e fa bene al paese. Grazie davvero.